Benvenuti a Fondazione Magazine, le parole territorio. Iniziamo la prima puntata intervistando e parlando con Aldo Casalini, l'avvocato presidente di Fondazione Casse di Risparmio di Vercello. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è una domanda che va un po' indietro nel tempo, ma allo stesso tempo attualissima, nel senso che Fondazione sta per compiere 30 anni. Quindi, cosa è successo in breve e che cosa succederà? Esatto, Lorenzo. Fondazione fa un compleanno. Il 27 dicembre del 2021 compie 30 anni. Da dove nasce Fondazione? La Fondazione è sostanzialmente una costola della Cassa di Risparmio di Vercelli che venne istituita nel 1851 per iniziativa del Comune di Vercelli, di alcuni soci benemeriti fondatori e del Monte dei Pegni. Il Monte dei Pegni che aveva sede, guarda caso, proprio dove ci troviamo oggi a registrare questa prima puntata di Fondazione Magazine. La Cassa di Risparmio di Vercelli nel 1991 ha generato, ha originato, ha germinato la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in attuazione della legge Amato Carli, che ha deciso di separare la parte di beneficenza dalla parte puramente commerciale delle casse di risparmio su tutto il territorio italiano. Fondazione quindi è nata nel 1991 con due scopi statutari ben precisi. Primo la conservazione del patrimonio che le era stato dato in dotazione e la seconda quella di erogare un livello sufficiente di beneficenza sul territorio nelle varie aree di intervento. Aree di intervento che sono l'arte, la cultura, lo sviluppo locale, la salute pubblica, argomento principale come vedremo poi della puntata di oggi, il volontariato, l'assistenza, lo sport. Quindi una piccola cassaforte del territorio che deve cercare di contribuire a tutta la progettualità che il territorio offre. Certo, e direi che dopo 30 anni è arrivato in piena salute, quindi si prosegue. Non aspetta a me dirlo, ma la nostra fondazione è, se Dio vuole, in piena salute. In questi 30 anni è arrivata a erogare sul territorio più di 55 milioni di euro nei vari ambiti e quindi posso dire che il nostro dovere fino adesso l'abbiamo fatto. Allora, questi sono risultati importanti che devono essere in qualche modo comunicati. Sì, e allora Presidente io la invito a spiegare come mai siamo qua, cioè questa è la prima puntata di qualche cosa di nuovo. Fondazione Magazine è un ulteriore passo per spiegare che cosa Fondazione fa per il territorio, perché spesso è tantissimo e conosciuto pochissimo. Beh, innanzitutto siamo qua per una tua brillante idea, Lorenzo, perché Fondazione Magazine si inserisce un'ulteriore tappa di quel percorso nuovo comunicativo che dall'aprile del 2020, cioè da quando è iniziata la mia presidenza, abbiamo deciso di intraprendere. Abbiamo deciso di cambiare la comunicazione della Fondazione, abbiamo deciso di cercare di trasmettere, non con le solite conferenze stampa di fine anno o di metà anno, ma in maniera più puntuale, più precisa, quasi settimanale direi, al territorio quello che noi facciamo. Quindi Fondazione Magazine sono sostanzialmente le parole del territorio, è un magazine che vuole dare voce alle parole del territorio affinché le stesse giungano al cuore del territorio. A dire il vero avevamo pensato all'inizio di realizzare un vero e proprio magazine cartaceo, anche questo sulla nostra idea un pochettino visionaria, da questo punto di vista. non è semplice, ma non ci rinunciamo sicuramente e magari in futuro riusciremo a fare qualcosa di questo genere. Qual è l'obiettivo? L'hai detto bene. L'obiettivo è quello di utilizzare le nostre risorse e il nostro canale YouTube, i nostri profili social, il nostro sito, per diffondere cultura, per aggiornare i cittadini vercellesi e valsesiani su quello che la Fondazione sta facendo, per cercare di trasmettere quella sensazione di protezione che la Fondazione vuole dare al tutto il territorio e per la quale è stata istituita. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della puntata, chiamiamola così, utilizzando un gergo televisivo. Salute pubblica. Salute pubblica quindi un percorso lunghissimo che ahimè in questi ultimi due anni ha avuto un'importanza fondamentale e un discorso per il quale Fondazione si è spesa a livello altissimo. Possiamo fare un riassunto di questi due anni dolorosi dal punto di vista dell'intervento di Fondazione? Ovviamente stiamo parlando di pandemia e la lotta a questo terribile flagello che si cerca di contenere anche grazie a queste iniziative. Molto volentieri. Innanzitutto una particolarità. Io sono stato eletto Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli nell'aprile del 2020 e sono stato eletto, sono stato nominato, sono stato designato in videoconferenza. Già questo dovrebbe farti capire la particolarità della situazione in cui ci trovavamo nella primavera dello scorso anno. E mi sono trovato subito alle prese con un problema, avrebbe da dire più grande di me, io non sono certamente piccolo perché sono alto un metro e 96 anche se sono seduto, ho i telespettatori però credo che qualche d'uno lo sappia. Mi sono trovato ad affrontare un problema più grande di me, più grande di noi verrebbe da dire, uno dei problemi più grandi che l'umanità intera si è trovata ad affrontare nell'ultimo periodo. Già il mio predecessore, il Dottor Lombardi, negli ultimi mesi del suo mandato, aveva immediatamente attivato tutte le procedure snelle, agili, veloci, di immediata erogazione e contribuzione che Fondazione poteva mettere in campo contro la pandemia. Do due numeri perché sono numeri onestamente davvero impressionanti. Tra il mese di febbraio e il mese di marzo del 2020 la Fondazione ha acquistato attrezzature mediche per l'allestimento del reparto di rianimazione, il presidio ospedaliero Sant'Andrea di Vercelli, per 230 mila euro. Ha acquistato, ha attivato, chiedo scusa, 23 posti letto aggiuntivi presso la Casa di Cura dei Silenziosi Operai della Croce a Moncrivello, in località Trompone, da destinare a pazienti ricoverati e affetti da Covid, 57 mila euro. 40 mila euro per acquisto attrezzature DPI per la sicurezza del personale e attivazione di terapia presso il nuovo reparto della struttura. Quindi già prima dell'inizio della mia presidenza la Fondazione aveva speso in un mese quasi 400 mila euro per far fronte all'emergenza. Qual era l'emergenza immediata? Era quella proprio di dotare gli ospedali, i presidi sanitari di quelle attrezzature che erano necessarie per mantenere in vita i pazienti. Devo dire che se anche con questi 400 mila euro abbiamo contribuito a salvare la vita di uno solo di questi pazienti, ovviamente abbiamo fatto il nostro dovere, sarebbero stati i 400 mila euro meglio spesi dalla Fondazione in tutta la sua storia. Dopodiché sono intervenuto io, è iniziata la mia presidenza e abbiamo proseguito in questi interventi. Come abbiamo proseguito? Sia nell'ambito prettamente sanitario, vi ricordate l'anno scorso abbiamo inaugurato il nuovo reparto Covid dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, cosiddetto progetto di umanizzazione, il professor Borre si era reso conto che le condizioni in cui i pazienti affetti da Covid trascorrevano le loro giornate in ospedale, erano condizioni drammatiche, soprattutto per il fatto di non poter avere dei servizi igienici in camera e quindi per dover fare queste interminabili code per poter andare in bagno. Allora abbiamo, unitamente al Comune di Vercelli, unitamente all'Asla di Vercelli, abbiamo contribuito con 125, anzi con 80 mila euro, chiedo scusa, all'attivazione di questo nuovo reparto Covid. Stessa cosa abbiamo fatto in collaborazione con il Comune di Gattinara a Gattinara. Ma non ci siamo fermati qui, perché? Perché abbiamo contribuito al bilancio del Comune di Borgosesia con 30 mila euro per sostanzialmente erogare dei buoni spesa che andavano a cercare di alleviare le sofferenze, i disagi economici di tutte quelle famiglie che sono state particolarmente colpite dalla pandemia. Abbiamo, unitamente all'Associazione delle fondazioni di origine bancaria piemontese, di cui Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli fa parte e contribuito a un progetto regionale, sempre che riguardava misure economiche di rilancio. Dopodiché, in un termine al Comune di Vercelli, siamo riusciti davvero in tempi brevissimi a mettere in tasca circa 500 euro a più di mille partite IVA vercellesi con il progetto di un patto per la ripresa. E poi vi sono tanti altri interventi che sono proseguiti successivamente, il sostegno psicologico che abbiamo dato con gli Speed Coaching Day unitamente al dottor Filippo Zizzadoro, la contribuzione alla realizzazione di volumi, un ospedale a tempo della pandemia, il libro fotografico che tanto successo sta avendo di Lella Beretta, le ferite della cura, che invece hanno raccontato le esperienze vissute dai malati e dagli operatori sanitari durante il ricovero nel periodo Covid. Quindi un intervento a 360 gradi che poi, se di orale, è cessato nella fase emergenziale, ma ciò non ha fatto sì che smettesse il nostro contributo alla salute pubblica perché anche nel 2021 abbiamo contribuito alla realizzazione, o meglio abbiamo contribuito finanziariamente al progetto di realizzazione e di riamodernamento del reparto di cardiologia dell'ospedale di Vercelli e in più abbiamo investito molto nella tecnologia con l'acquisto di attrezzature, acquisto di attrezzature per l'ospedale di Vercelli, un laparoscopio di ultimissima generazione che è stato dato al Dipartimento di Urologia dell'AS di Vercelli. Abbiamo contribuito e stiamo contribuendo unitamente alla Fondazione Edo Tempia, hanno un processo di digital pathology che sostanzialmente prevede l'implementazione delle attività di rifertazione, studio e ricerche in remoto attivando collaborazioni e sinergie con diversi enti ospedalieri e quindi in buona sostanza stiamo proseguendo nella nostra opera in questo campo. Presidente, io ne approfitterei per smentire un luogo comune che spesso si sente attorno a Fondazione ma non solo, ovvero l'attività di Fondazione, il sostegno di Fondazione è diffuso sul territorio, molto spesso si pensa che sia Vercelli la diretta destinataria di questi sostegni di queste erogazioni, mentre invece si sente quanto è diffuso sul territorio e quindi realtà che sono anche molto distanti dalla città vengono in qualche modo aiutate in questo caso ad affrontare una pandemia terribile e immediata, ma non solo in questo caso, voglio dire, è la normale procedura di Fondazione questa. Ti ringrazio per questa domanda perché si tende a volte a pensare che la Fondazione si attivi unicamente sul comune di Vercelli, non è vero, la Fondazione si attiva sulla provincia di Vercelli, la provincia di Vercelli è una provincia grande, complessa, in tutte le sue aree territoriali con particolare riferimento anche alla Valsese la Fondazione è sempre presente. Abbiamo citato Moncrivello, abbiamo citato Gattinare, abbiamo citato il comune di Borgossese per fare degli esempi, ma potrei citare Trino, potrei citare Crescentiro, potrei citare Santià e tante altre realtà che noi cerchiamo di sostentare. Certo, e questo è fondamentale proprio per la sua fase istituzionale. Al cuore del territorio Lorenzo inteso come territorio della provincia di Vercelli. Esatto, direi che più di così non potrebbe essere. Adesso facciamo un piccolo saltino all'indietro, ma anche in avanti, nel senso che andiamo a a parlare di Villa Bertinetti. Si è ne è già parlato, è qualcosa che sta già procedendo, ma forse conviene riassumere velocemente che cosa sta succedendo, perché è un centro di urno per l'Alzheimer a Vercelli di altissima professionalità e di nuovissima fattura. Ecco, in due parole, e non solo due parole, che cosa sta succedendo? Dici bene, facciamo un salto indietro del tempo. 2018, presidenza del dottor Lombardi, si verifica la possibilità di acquistare la villa della famiglia Bertinetti, la prestigiosissima villa che tutti noi vercellesi siamo abituati a vedere transitando in via Massawa, quando magari ci allontaniamo dallo stadio della Provercelli dopo una vittoria o una sconfitta, nell'ultimo periodo in me sono più le sconfitte delle vittorie. È un immobile prestigioso, quindi un'occasione prestigiosa, si tratta di più di mille metri quadri divisi su quattro piani, con un giardino in dotazione veramente molto 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 bello. Il dottor Lombardi decide di acquistarla, la fondazione spende circa 600 mila euro per l'acquisto, con l'idea di destinarla alle attività socioassistenziali vercellesi. Non si sa ancora al momento dell'acquisto che cosa si realizzerà. L'anno successivo, nel 2019, l'acquisto si perfeziona e nasce l'idea di creare per la prima volta a Vercelli un centro di urno per i malati di Alzheimer. Un centro di urno che consenta alle decine, decine, decine se non centinaia di famiglie che vivono nella provincia di Vercelli, i cosiddetti caregiver, quelli che devono farsi carico tutto il giorno di questi pazienti che soprattutto nella fase terminale della malattia diventano davvero difficili da gestire, consente loro di poterli portare in un luogo sereno, un luogo dove possono avere quasi le stesse possibilità di invecchiamento delle altre persone, assistiti da personale competente e specializzato. Nasce questo progetto, la villa viene acquistata, dopodiché però questa è una villa che era destinata alle esigenze, è una bellissima villa destinata alle esigenze di una famiglia privata. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna ristrutturarla. Pesantissimo intervento di fondazione, 1 milione e 600 mila euro di contratto di appalto, i lavori iniziano sotto la mia presidenza nell'estate del 2020, si prevede che termineranno credo e spero attorno ad aprile-maggio del 2022 e nel frattempo ci siamo attivati con l'Asele e con la regione del Piemonte per avere il convenzionamento e l'accreditamento della struttura e speriamo di poter regalare ai nostri utenti davvero un centro di urno all'avanguardia. Proprio in questi giorni ci siamo recati ad Appiano Gentile, alla Pinettina, non sono andato ad Appiano Gentile per vedere gli allenamenti della mia squadra del cuore che è l'Inter, ma siamo andati ad Appiano Gentile perché ad Appiano Gentile c'è una fondazione, si chiama Fondazione Bellaria che gestisce un centro diurno e un centro notturno anche per i malati di Alzheimer davvero all'avanguardia. Abbiamo visionato questa struttura, abbiamo preso contatti con un'impresa di Pistoia che si chiama Generali che fa esclusivamente arredi e presidi per centri diurni di Alzheimer con un'innovazione pazzesca. Pensate che nella nuova Villa Bertinetti avremo una stanza sensoriale, multisensoriale con delle poltrone che verranno utilizzate per stimolare, dal profilo tecnologico avanzatissimo che verranno utilizzate per stimolare i pazienti, avremo addirittura un piccolo vagone ferroviario, tu dirai ma che cosa ci fa un vagone ferroviario in un centro diurno di Alzheimer? La verità è che i malati di Alzheimer molto spesso dopo qualche ora che stanno nel centro manifestano un po' di eriquietudine, manifestano la volontà di andare via. Allora l'idea di creare questo vagone ferroviario dove vengono portati da un operatore come se dovessero davvero prendere, partire e fare un viaggio. Questo vagone ferroviario è dotato di un enorme schermo LED che si trasforma nel finestrino della vecchia carrozza del treno, su questo finestrino vengono proiettate le immagini di linee ferroviarie conosciute, note, ad esempio noi pensiamo di proiettare la Torino-Milano, quando il paziente si tranquillizza questo enorme finestrino si trasforma in una lavagna luminosa, in una vera e propria limma che serve per poi effettuare tutte quelle attività finalizzate a rallentamento della malattia e finalizzate al tentativo di far vivere il più serenamente possibile le giornate a questi pazienti. Certo, è una descrizione che uno vorrebbe sentire e risentire, perché voglio dire entriamo in un campo che per moltissimi è sconosciuto, non solo per chi fortunatamente non ha a che fare con la malattia, ma anche per semplicemente coloro che iniziano a bazzicare un pochino quello che sta succedendo riguardo al centro, ma non è l'unica notizia, perché a ruota si può dire è entrato qualcos'altro, riguarda di nuovo patologie importanti e riguarda di nuovo patologie che comprendono una fascia amplissima di popolazione e in questo caso forse l'attenzione è dedicata in particolar modo ai più giovani, se non ricordo male. Assolutamente sì, proprio alcune settimane fa nella nostra sala convegne abbiamo annunciato un altro progetto estremamente ambizioso di fondazione, un progetto che il Consiglio di amministrazione attuale, l'organo di indirizzo attuale unitamente ovviamente al sottoscritto, hanno sposato e voluto fortemente. Realizzeremo unitamente al Comune di Vercelli, che ci darà la disponibilità di un'area di circa 2000 metri quadri, una struttura, un centro diurno per l'autismo. Abbiamo sentito dalle parole della Presidente Vercellese, Chica De Bernardi, quante sono le persone che hanno necessità di avere un'assistenza in questo genere di patologie. E allora abbiamo pensato, abbiamo realizzato qualche cosa che tutela persone che vengono colpite dalla malattia in una fase avanzata della vita, perché non cerchiamo di aiutare chi la vita non ha ancora davanti, tutta da vivere e chi la vita deve cercare di viverla nonostante le sue difficoltà nel miglior modo possibile. Non è stato facile individuare l'area, si pensava di acquistare un bene immobile, di ristrutturarlo, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Dopo una serie di ricerche, nella zona del villaggio Concordia, davanti alla chiesa dei Mormoni, c'è questo spazio di verde pubblico bellissimo, bellissimo perché è aperto su tutti i lati, ha quasi l'idea di essere in un campus universitario americano. Il Comune ci concederà un diritto di superficie 99 annale su quest'area e la Fondazione creerà un edificio, realizzerà un edificio di circa 400 metri quadri, i cui spazi interni saranno modulabili a seconda delle esigenze che ovviamente con l'associazionismo che tutela l'autismo noi individueremo e soprattutto con uno spazio verde di 1500 metri quadri all'esterno, di modo che questi ragazzi possano trascorrere le loro giornate, non solo tra laboratori di apprendimento e presidi di aiuto psicologico, ma anche all'aria aperta facendo dello sport e utilizzando una zona peraltro centrale della della nostra città perché non siamo in una particolare periferia, non siamo al di fuori di Vercelli, siamo nel centro di Vercelli utilizzando questa struttura per trascorrere serenamente le loro giornate. Ovviamente il progetto è in fase embrionale, utilizzeremo il periodo intercorrente tra oggi e la fine dei lavori di Villa Bertinetti per effettuare tutti i progetti necessari e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, speriamo di partire con i lavori entro la fine dell'anno. Certo. Allora Presidente andiamo verso la chiusura di questa puntata, ma le parole da lei pronunciate che riguardano sia gli interventi anti-Covid, diciamo così, sia questi nuovi progetti indicano in Vercelli un luogo, come dire, in qualche modo elitario che va verso l'avanguardia sanitaria. Intanto le chiedo se è veramente così, ma poco prima di entrare in trasmissione, diciamo così, mi ha esposto un suo, io dire, punto di vista che secondo me è interessantissimo, che è quello che riguarda in qualche modo, come dire, la frequentazione di luoghi in cui ci sono i presidi sanitari forti, ci sono centri come questi di cui abbiamo parlato che sicuramente spalancheranno delle porte e dei canali di comunicazione e di frequentazione soprattutto. Ecco, vogliamo chiudere un pochino con, riassumendo questo pensiero, questa visione insomma. Molto volentieri. Io credo questo, lo dissi già in occasione dell'inaugurazione del reparto Covid dell'ospedale Sant'Andrea. La sanità pubblica e lo sviluppo locale sono oramai due aree di intervento che vanno di pari passo. È indubbio che avere a livello locale una sanità performante ed efficiente sia a fronte di attrazione per persone che vengono al di fuori di Vercelli, che accompagnano i loro malati, che hanno bisogno di strutture recettive, che hanno bisogno di luoghi dove poter risiedere, luoghi dove poter mangiare, luoghi dove poter fare la spesa. L'altro giorno ero all'Humanitas a Rozzano e mi rendevo conto di quanto Rozzano stessa sia cambiata nella sua conformazione urbanistica con la creazione di questa enorme struttura che è l'Humanitas, ma stessa cosa è avvenuta nei pressi del San Raffaele. Vercelli ha avuto un ospedale all'avanguardia all'inizio degli anni 60, non ha poi avuto la fortuna di avere come Novara una sede universitaria, ma i nostri direttori generali che si sono succeduti nel corso degli anni hanno saputo difendere una sanità performante, una sanità che adesso verrà, è notizia di questi giorni, ulteriormente migliorata da questi 155 milioni di euro che probabilmente arriveranno per o la costruzione di un nuovo nosocomio o la ristrutturazione di quello attuale, sono scelte ovviamente che competeranno alla politica e alla sanità regionale. Quel che è certo è che il contributo che dà Fondazione cerca di essere un contributo che attivi una solidarietà sempre più circolare e non mono orientata e non mono direzionale. È il passaggio dalla filantropia tradizionale che era erogare facendo fronte alle esigenze delle associazioni, di tutti gli enti che richiedevano la nostra erogazione senza avere una visione futura alla filantropia moderna. La filantropia moderna è una filantropia che deve necessariamente portare a una solidarietà che si dirama in diverse aree di intervento. Io credo che lo sviluppo della salute pubblica possa essere uno di quelle diramazioni che poi si può ridiramare in altri rivoli di solidarietà che possono portare vantaggi al nostro territorio.